bike for future una bicicletta per greta la conosciamo tutti greta thunberg in collaborazione con il liceo artistico musicale coreotico misticoni belisario di pescara e qui siamo con valerio di vincenzo che è presidente della fondazione olus olus come nasce questa iniziativa e questa collaborazione soprattutto tutto è partito prima del covi è importante dirlo in quanto era il momento in cui la notorietà di di greta del movimento by for del del movimento friday for future era diciamo nell'attenzione di tutti e noi abbiamo pensato a qualcosa di molto semplice cioè se è vero che dobbiamo sviluppare delle azioni concrete per ridurre l'inquinamento per agire a favore del contenimento dei cambiamenti climatici è necessario che ognuno di noi faccia qualcosa per poterlo fare secondo diciamo il modo in cui la fondazione da anni lavora utilizzando lo strumento della bicicletta abbiamo pensato che fosse greta che dovesse diventare un testimonial dell'uso della bicicletta quantomeno nei confronti delle giovani generazioni dalle quali lei è molto seguita quindi è stato quasi inevitabile in incontro con i creativi del del liceo con la professoressa paola emilio con la la dirigente raffaella cocco che ci hanno consentito di entrare in contatto con questi giovani come l'abbiamo fatto purtroppo diciamo erano tutti quanti in lockdown non è stato facile comunicare abbiamo fatto riunioni online è stato soprattutto diciamo l'impegno e la costanza che ci ha portato finalmente al risultato che abbiamo raggiunto ci sono dei a punto dei loghi che vengono applicati alla bicicletta e effettivamente diciamo la nostra il nostro desiderio a questo punto è renderci visibili all'organizzazione della del friday for future in modo tale che questo messaggio possa arrivare in giro per il mondo a proposito di logo c'è stato anche un premio al primo classificato davide dagressa della quinta g del cea artistico musicale ecoreutico missiconi belisario poi anche seconda e terza classificata claudia fuiano e vittoria farinaccia un logo che rappresenta un simbolo beh sempre diciamo il logo serve per aprire una comunicazione e come mi è capitato di dire noi in questo mondo ormai diciamo frammentato abbiamo bisogno di punti di riferimento e abbiamo bisogno anche di bellezza e questa viene dalla creatività i giovani hanno dimostrato di essere molto capaci di interpretare non solo diciamo tecnicamente la soluzione a questo problema ma anche di capire le indicazioni di relazionarsi con il committente io gli auguro effettivamente di essere degli ottimi professionisti come hanno dimostrato finora anche diciamo con condizioni abbastanza difficili per per loro che hanno dovuto lavorare a casa senza strumenti adeguati ma che hanno dimostrato di poter portare dei risultati eccezionali da certi versi la realizzazione del logo di bike for future è la prima azione di un progetto articolato in fase ma che si considera in autonomia rispetto alle successive l'idea di donare a greta thunberg una bici personalizzata che si è andata a presentare dicono i promotori costituisce il primo atto per coinvolgerla perlomeno simbolicamente